Grazie a tutti. Per il resto abbiamo una bella iniziativa, saluto il Preside Caligiuri che per ovvi motivi è a casa, per tante ragioni e ovviamente tutti voi. Il mio saluto ovviamente va al Consigliere Comunale e all'editore, il Professore Florindo Rubettino, che insieme con me condivide le fatiche di questa Università d'Estate, che è stata organizzata insieme con il Fiore di Lino, oltre che alla Fondazione Italia Domani. Quest'anno l'Università d'Estate avrà anche tra gli organizzatori l'assessorato al Centro Storico e alla Coscienza di Cosenza, in quanto concluderà le manifestazioni dell'Università d'Estate, Vittorio Sgarbi, che come sapete è assessore comunale con questa deloga nella città Bruzia. Un ringraziamento e un saluto a Radio Radicale che segue come sempre i nostri lavori e alla Università Telematica Uninettuno che sta registrando e quindi poi trasmetterà sui canali satellitari una sintesi di questi nostri incontri. Allora, via preliminare, consentitemi di salutare ovviamente la nostra ospite d'onore, la Professoressa Paola Dubini dell'Università Boccoli di Milano, che vi prego di salutare con un applauso. Essendo questa la prima lezione mi pare doveroso sintetizzare in modo molto rapido il programma di Essere a Soveria. Quindi dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al 2010 e abbiamo ripreso una delle manifestazioni culturali più antiche dell'estate meridionale che con questa arriva alla 24esima edizione e che ha visto diventare il nostro comune un luogo d'incontro per intellettuali, scrittori, giornalisti del nostro Paese. Riprendiamo un'esperienza amministrativa che si è sempre basata sull'innovazione e la cultura, legate profondamente ai valori e alle tradizioni. La cultura è motore di sviluppo. E' questo proprio il tema di questa Università d'estate che questa notte Vittorio Sgarbi ha voluto titolare il senso dei luoghi. Iniziamo con Paola Dubini, l'ascolteremo tra poco tutti con grande interesse. Proseguiremo il 9 di agosto con Raffaello De Ruggeri, sindaco di Matera, sindaco della città che è capitale europea della cultura per il 2019. Poi ancora il 30 di agosto con Massimo Brai, ministro della cultura del 2013-2014 e attualmente direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. E poi concluderemo con Vittorio Sgarbi, che proprio nel 1989, il secondo anno di essere a Soveria, con la sua presenza ha dato uno slancio formidabile a fare in modo che il nostro Comune diventasse un riferimento culturale nazionale. Il modello che abbiamo cercato di sviluppare in questi anni si basa sempre sulla tradizione e sulla novità. E perché la tradizione? Perché noi siamo conservatori nei valori e nella creatività, perché siamo innovativi nei comportamenti. O almeno ci proviamo. Quindi questo vale per la nostra comunità, soprattutto in questi anni. E così come abbiamo la prima novità, è che essere a Soveria non sarà svolta solo nel mese di agosto, ma durerà praticamente tutto l'anno. Quindi avremo una serie di appuntamenti che poi scandiremo in maniera più precisa. Ci sarà il 22-23 settembre il premio Calabria Ambiente, verrà a ritirarlo il Presidente Carandini. Così come abbiamo preso contatti con il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, con l'ex Presidente del Consiglio, Massimo D'Alema, con Roberto Giacobbo, il grande giornalista e divulgatore scientifico. Così come vedremo di inaugurare entro l'anno la più grande videoinstallazione d'Europa, che abbiamo realizzato tanti anni fa. Ma dato che noi abbiamo inaugurato mai nulla, quindi inaugureremo la più grande videoinstallazione d'Europa, che è stata realizzata da Fabrizio Plessi, uno dei più grandi artisti del nostro Paese. E quindi con un programma preciso che vedrà anche la presentazione del Codice Romano Carratelli, un'opera che vedremo di fare la Regione Calabria negli anni scorsi, ha cercato di inserire tra il patrimonio immateriale dei beni dell'umanità riconosciuti dall'UNESCO. Così come vedremo di organizzare qualche esposizione di quadri di Mattia Preti, il nostro grande Cavaliere Calabrese. Ricorderemo anche il dovere della memoria, con delle figure importanti per la nostra comunità, come Don Natale Colafati e come Raffaele Proto. Quest'anno ci saranno tanti eventi di qualità. Il 8 di agosto ci sarà Derek De Kercove, uno degli allievi di Marshall McLuhan, che parlerà della felicità urbana. Ma noi cercheremo di utilizzare questa presenza per riprendere il grande progetto, il grande sogno di Soveria.it, che ha fatto diventare, contrariamente ad ogni logica, il nostro comune, quello più informatizzato d'Italia nel 2003. Così come ha attestato il census. Così come faremo un ricordo di Marco Pannella. Il 20 di agosto è un omaggio a quello che rappresenta nel nostro Paese Radio Radicale. La manifestazione si chiamerà dentro ma fuori dal palazzo e avrà la presenza del direttore di Radio Radicale, Alessio Falconio. Il 26 di agosto ci sarà uno dei più grandi parolieri di tutti i tempi, Giulio Rapetti in arte mogolla. E credo che vedremo di portarlo anche in quella strada che intitolammo tanti anni fa a Lucio Battisti. Era appena morto, non erano stati celebrati neanche i funerali, però noi piantammo fiori di rosa da un lato e fiori di pesco dall'altro. Perché la collina dei ciliegi c'era già, così come anche i giardini di marzo, quelli c'erano pure. E organizzeremo anche altre presentazioni di libri. Il 29 di agosto ci sarà Gerardo Sacco, libro pubblicato da Rubettino, dal titolo provocatorio Non sono nessuno. Come sapete Gerardo Sacco è uno dei più grandi orafi del nostro Paese, di Crotone. E poi ci sarà il 25 di agosto la presentazione di un libro del Presidente della Regione Calabria dal 2005 al 2010, Agazio Loiero, sempre un libro pubblicato da Rubettino, Lord Signori, di ieri e di oggi. Presenteremo questi libri entrambi in questa biblioteca Michele Caligiuri. Poi il 17 di agosto ci sarà un bell'appuntamento molto significativo, dove un nostro concittadino, Ralf Chiodo, Manno d'Oro 2009, sarà celebrato con una commedia in Piazza Bonini. Ralf Chiodo è partito da Soveria Mannelli, era orfano di padre, è approdato alla PIR 21, al Molo 21, dove arrivavano tutti gli emigrati, ed è diventato uno degli uomini più influenti, più ricchi, più noti, più amanti del Canada. E noi lo ricorderemo con questa iniziativa. Il coinvolgimento della comunità, come sempre, è stato straordinario. Hanno partecipato la gran parte, penso tutte, le associazioni del nostro comune, dal Fiore di Lino alla Fondazione Italia Domani, dal Circolo Tennis alla Compagnia Teatrale dei Comedianti, dalla Rosa nel bicchiere alla Fidapa, dalla Proloco alla Tennis Club, dalla Garibaldina all'Emmaus, dalla Palestra Salus al Tirabucho, dal Bar Cardamone alla Bocciofi alla Garibaldina, e via dicendo, veramente una presenza importante, straordinaria e costante. La tradizione continuerà, celebreremo la Notte Bianca, il 13 di agosto. Saranno i 19 anni della Notte Bianca, che è stata inventata a Soveria Mannelli, dall'assessore comunale al dissolvimento dell'ovvio Giordano Bruno Guerri. Quindi, copiando quello che era avvenuto a Parigi, noi replicammo la Notte Bianca, che poi, sette anni dopo, venne effettuata a Roma, dalla Sindaco Veltroni, sette anni dopo di noi. Così come ci saranno queste iniziative molto belle, voglio citare solo quelle più importanti, il torneo di tennis che è giunto alla 43esima edizione e che si svolgerà in uscita ad Altomonte, sarà fatto, diciamo, in trasferta, sarà svolto ad Altomonte, poi la 36esima edizione del concorso teatrale nazionale Città dei Soveria Mannelli, che venne intuito da Don Natale Colapati e poi è stato portato avanti da Gino Capolupo. E poi la 12esima edizione di Essere a Soveria. Il tema che abbiamo dato quest'anno è Essere a Soveria e il ritorno al futuro. Riprendendo il film di Robert Zemeckis di 31 anni fa, e che poi noi proietteremo, sia la prima, la seconda, che la terza pellicola, nel largo al poeta ignoto, anche questa dicitura si deve a Giordano Bruno Guerri, l'indimenticabile assessore al dissolvimento dell'ovvio, che partiva da un concetto preciso. E cioè, dato che l'Italia è un popolo di naviganti, di trasvolatori, di trasmigratori, di eroi, ma soprattutto di poeti. E tantissimi scrivono poeti, scrivono poesie, però per pochi è data la possibilità di avere pubblicati i propri versi. A questa pletora di italiani noi abbiamo intitolato questo spazio, che si trova nelle prossimità di Piazza dei Mille. Ci saranno circa 150 eventi in questi 31 giorni, e ci sono iniziative per tutti i gusti, dalla cultura alla gastronomia, dalla musica allo sport. Un ringraziamento va ai tanti amici che hanno collaborato, tra questi voglio solo citare Luigi Anastasio, Antonio Bruzzese, Emilio Marasco, Raffaele Cardamone, Giovanni Paola e poi Gugliel Musiriani, al quale si deve la grafica, che ancora non avete visto, ma che vedrete che sarà, credetemi sulla parola, sarà meravigliosa la grafica di... Allora, siamo alla dodicesima edizione dell'Università d'Estate. In effetti sarebbe la tredicesima. Se contassimo quella dell'anno scorso, che abbiamo organizzato la Casa Etrice Rubettino e la Fondazione Italia Domani, e che aveva come tema ripartire dalle parole per ricostruire la democrazia. Abbiamo avuto come relatori Ugo Cardinale, linguista, Arturo Diaconale, giornalista e consigliere di amministrazione della RAI e Nicola Gratteri, un magistrato al quale ogni italiano deve qualcosa. Quindi adesso ripartire dalla cultura come motore di sviluppo, perché più che un luogo comune è una necessità. Ed è bello che questo messaggio parta da sotto. Nel corso di questi anni l'Università d'Estate ha toccato dei temi che spesso hanno anticipato, i temi del dibattito politico e culturale del nostro Paese. Nel 1998 addirittura parlammo di segreti e alchimie, con Franco Frattini, che allora era Presidente del Comitato Parlamentare di Controllo dei Servizi, e il Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Antonio Baldassarra. Nel 2001, proprio mentre stava nascendo il progetto di Soveria.it, tutta l'Università d'Estate venne intitolata Internet e Rivoluzione. Venne l'allora Ministro per le Comunicazioni Maurizio Gasparri. E nel 2002, la TV di servizio di chi? Ritornò Antonio Baldassarra, però nella sua veste di Presidente della RAI. Lo trovammo, venne a Soveria. Ritornò anche il Ministro delle Comunicazioni Gasparri. Mancava Melchiorre per avere i tre remaggi. Sopperimmo con Mario Morcellini, che era il Presidente dei corsi di laurea di Scienze delle Comunicazioni d'Italia e docente della Professora della Sapienza. Poi nel 2003 parlammo di informazione e democrazia con Andrea Ceccherini, che ha inventato quel grande progetto del quotidiano in classe e che è un fenomeno sociale che coinvolge, come il Presidente sa, come Mario Orso da Sanno, la gran parte delle scuole superiori del nostro Paese. E poi, sempre su questa china, abbiamo approfondito nel 2004 l'argomento parlando di letture classe dirigente. E poi nel 2005 classe poco dirigente con Daniele Capezzone, che è stato tante volte protagonista delle nostre iniziative. Con Marcello Veneziani, un punto di riferimento delle stati di Soveria. Poi con Beppe Rao, che era stato il Presidente del Forum per la Società dell'Informazione durante la presidenza del Consiglio di Massimo D'Alema. Poi nel 2006, sull'onda del Codice da Vinci, organizziamo il Codice della Democrazia, la Casa di Vetro e i Poteri Occulti. Abbiamo avuto la presenza di Giorgio Galli, di Aldo Mola, del Giudice Priore, di Stefano Delle Chiaie, di Marco Dolcetta, di Maurizio Blondè, di Antonio Baldassarre e di Lanfranco Pace. Nel 2007, viva la Repubblica, tra democrazia reale e virtuale, sempre con Galli, Mola, Priore, Paolo del Debbio, Capezzone, Claudio Gelardi, Nicola Piepoli, Marina Valenzisa. Nel 2008, parliamo tanto di Sud, per una rivoluzione del Mezzogiorno. Ci fu la presenza di quel grande meridionalista, che è stato Nicola Zitara, che parlava del Sud, dell'Unità d'Italia come nascita di una colonia. e poi ancora Marco, sempre Maurizio Blondè, Carbone, Ciconte. Nel 2009, lo stato dell'inganno, banche, Sud e media. Queste cose ne parliamo già tanti anni fa, con Marco Sabba, con Marco Della Luna, con Stefano Mosti, dell'Osservatorio di Pavia, con Francesco Forgione. Nel 2010, Sud da vincere, per una nuova Unità d'Italia, proprio in prossimità del 150esimo anno dell'anniversario dell'Unità del nostro Paese, con Pino Aprile, Vittorio Daniele, Daniele Capezzona. E poi, quest'anno, lo spirito dei luoghi, con Paola Dubbini, Raffaele De Ruggeri, Massimo Brai e Vittorio Sgarpi. Allora, molto brevemente, per parlare di questo tema, per introdurre questo tema della cultura. Non per rivendicare un'esclusività, ma per ribadire un valore. La cultura è una dimensione fondamentale, perché dà una visione del mondo. Oggi rischia, però, di essere annoverata come un luogo comune, una parola evocata, ma priva di significato reale. Un termine astratto, generico, al quale non seguono comportamenti e risultati concreti. E' un luogo comune, la cultura, come l'unità, la ricerca, la democrazia. Sono parole invocate per esorcizzare i problemi e per indicare futuri improbabili. Non a caso, uno dei più lucidi e implacabili critici del sistema capitalista e dell'economia di mercato è il linguista Noanchomsky, quello che dice che siamo il 99%, e quindi è l'1% che comanda mentre la popolazione mondiale subisce. In tempi di crisi economica, in Italia, mai come ora, si invoca la crescita attraverso la cultura. Non c'è dubbio che attraverso la cultura si possa ipotizzare un modello di sviluppo, ma per evitare che si trasformi nell'ennesimo luogo comune occorre tenere presenti almeno alcune considerazioni. La prima ce la ricorda Mark Fumaroli, che ha scritto nei primi anni 90 lo Stato culturale e ci dice con grande chiarezza la cultura è un altro nome della propaganda. Anche i capolavori sono chiamati a fare opera di addescamento in un contesto in cui con il pretesto dell'efficienza democratica nella gestione del patrimonio artistico la baronda dei supermercati e dei centri commerciali diventa l'ideale museologico. E poi conclude dicendo che l'eccesso di offerta culturale è un errore e troppi sono i compiti affidati alla cultura. Luca Nannipieri in un libro prezioso pubblicato da Rubettino Libertà di cultura meno stato e più comunità per arte e ricerca auspica una profonda riforma della cultura e afferma una realtà incontrovertibile e cioè nessun museo biblioteca archivio festival o università deve essere preservato senza che siano le comunità a volerlo. Eppure l'Italia per l'Italia la cultura è fondamentale. Noi saremo la terza settima ottava decima potenza industriale del mondo però indiscutibilmente siamo la prima potenza culturale del pianeta. Però questo non si traduce cara professoressa a differenza che altrove in sviluppo economico. Secondo me noi non dobbiamo inventarci nulla non dobbiamo promuovere e valorizzare quello che abbiamo già dobbiamo rendere produttivi gli investimenti perché non è vero che non si investe in cultura le somme si investono e sono anche notevoli e ragionare soprattutto con una logica unitaria in modo tale che quello che si fa a Torino abbia un senso anche per Reggio Calabria e quello che si fa a Cagliari abbia un senso anche per Ancona. Quindi la scuola è fondamentale in questa dimensione perché se il livello scolastico è basso inevitabilmente il livello culturale è basso ed è attraverso la scuola che si amano i libri la musica l'arte il teatro la cultura che è anche identità identità dei luoghi identità delle nazioni se a scuola questo non avviene non si può pretendere la lettura dei libri non si può pretendere che si vada a teatro o che si visiti una mostra se la scuola se la scuola non insegna di questa importanza se non insegna l'uso e la comprensione delle parole non si potrà mai apprezzare un quadro di Caravaggio una sinfonia di Mozart o un libro di Pirandello e quindi conoscere le parole e allora questo è molto è molto importante e per noi come comunità come Soveree Mannelli che cosa può significare per noi può significare che un altro modello di sud è possibile è impensabile che in un comune come il nostro di 3.000 abitanti ci sia una delle case editrici più importanti d'Italia la Rubettino è impensabile che questo comune sia stato nel 2003 e paradossalmente lo sia ancora perché il nostro è un paese inteso come Italia seduto il comune più informatizzato d'Italia è impensabile che in un comune come il nostro ci sia una fabbrica della lana dell'Ottocento ancora perfettamente funzionante il lanificio Leo è impensabile che il nostro comune sia stato considerato dalla Svimez qualche anno fa il comune ha maggiore tasso di sviluppo industriale e di promozione verso l'estero di internazionalizzazione perché ci sono aziende importanti come la Camillo Seriana Arredamenti che ha reti di vendita in tutto il mondo che esporta addirittura in Cina e così come tantissime aziende che lavorano i prodotti del suolo e l'alluminio è impensabile che il nostro comune nel 2004 venne considerato dall'Anci in occasione dei cento anni della sua nascita uno dei dieci comuni a maggiore vocazione alla globalizzazione d'Italia e allora questa è la cultura e anche immagine e l'immagine oggi più che mai è sostanza soprattutto quando dietro la sostanza ci sono le cose ci sono i fatti e non la distorsione dei fatti e della verità perché ormai viviamo in un contesto in cui le opinioni si equivalgono qui come ci ricorda Umberto Eco le parole di un avvinazzato hanno la stessa platea di diffusione di quelle di un premio Nobel in base alla diffusione di internet allora è importante quello che noi stiamo facendo riteniamo perché attraverso la cultura attraverso le iniziative che nel corso degli anni abbiamo svolto e che non ci sono mai spente neanche negli ultimi anni la notorietà di quello che noi abbiamo fatto anzi si è amplificata e il comune che è stato per tanti anni il più citato tra i piccoli comuni italiani che è stato un punto d'incontro un portofranco per intellettuali un comune studiato nelle università di tutto il paese con tante tesi di laurea noi viviamo e concludo tempi difficili tanti sono i problemi ma anche tante sono le opportunità noi punteremo con forza sull'innovazione punteremo su soveria.it punteremo sul comune a totale efficienza energetica punteremo a realizzare delle politiche innovative per le famiglie d'intesa con il ministero col dipartimento della famiglia della presenza del consiglio punteremo sulla lettura con il centro del libro e grazie alla presenza preziosa della casa elettrice rubettino punteremo a fare innovazione dal punto di vista sociale insieme col Censis con la fondazione Agnelli con gli altri centri di ricerca a livello nazionale quindi un laboratorio di innovazione amministrativa che avrà la cultura come riferimento la cultura questa parola magica che unisce la terra al cielo la cultura da culto quindi dalla invocazione agli dei la cultura da coltivare l'esercizio che ciascuno di noi fa ogni giorno per trovare il proprio posto nel mondo una parola estremamente concreta quindi ripartire dalle parole per ricostruire la democrazia cioè il senso della realtà in una società della disinformazione e quindi ripartire dalla cultura per creare lo sviluppo che deve valorizzare il senso dei luoghi le nostre risorse le nostre persone la nostra bellezza buona università d'estate buon essere a Soverea 2016 mi risco anch'io al ringraziamento a Paolo Dubini per essere qui con noi in questa giornata agostana non è scontato avere tante disponibilità di tanti amici che sono con noi come avete sentito quest'anno noi abbiamo deciso di partire dai luoghi dallo spirito dei luoghi che significa appunto il territorio significa lo spirito e tutti quei valori immateriali che un territorio si porta dietro quindi la cultura in senso lato che significa identità valori conoscenze che quei territori hanno Paolo Dubini è un economista della cultura possiamo definirla così cioè è una persona che si occupa di misurare come la cultura può produrre ricchezza la cultura nelle sue varie accezioni insegna la Bocconi come è stato detto è anche direttrice del corso di laurea in economia per le arti la cultura e la comunicazione quindi chi meglio di lei può parlarci di queste cose visto che si occupa quotidianamente di come le filiere culturali e creative producono crescita economica la declinazione la declinazione che appunto daremo a questa serata avendo di fronte un economista è quella di capire come il territorio come i luoghi possono essere fattori di sviluppo io sono convinto che il territorio i territori siano l'arma segreta dell'economia italiana che ancora non è stata sfruttata a pieno proprio nel senso che dicevo prima nel senso che cultura valori saperi identità sono quei giacimenti nascosti che forse possono essere meglio utilizzati per combattere appunto la sfida che tutti abbiamo davanti storicamente in passato il successo delle attività economiche è sempre stato molto legato ai luoghi almeno fino a un certo punto perché la posizione geografica le risorse naturali insomma tutta una serie di fattori erano fortemente legati al territorio da un certo punto in poi sostanzialmente nel ventesimo secolo il territorio ha cominciato a pesare sempre meno perché c'è stata una economia di scala che quindi si in qualche modo sganciava dai territori la logistica evoluta che in qualche modo superava alcuni alcuni limiti fino ad arrivare di nuovo a un e questo a partire dagli anni 80 del secolo scorso a una nuova inversione di tendenza sostanzialmente la crisi del modello taylorista la crisi dell'economia di scala la produzione just in time mi hanno portato a riconsiderare il valore i mercati saturi soprattutto hanno cominciato a ripresentare il bisogno di differenziare i prodotti di fare prodotti unici prodotti riconoscibili che in qualche modo potessero competere su scala mondiale e naturalmente l'ancoraggio di questi prodotti ai territori diventava fondamentale per tutta una serie di motivi quindi ragionare di territorio di luoghi di come la cultura dei luoghi può essere fattore strategico è importante per capire cosa determina il successo o il declino di un territorio e la linea è molto sottile per questo è importante ragionare perché ci sono territori che hanno caratteristiche analoghe simili e vediamo con performance molto diverse alcune risposte forse possiamo possiamo darle nel senso che ci sono alcune leve che sicuramente oggi si intravedono e che fanno la differenza e che guarda caso tutte hanno a che fare con la cultura innanzitutto il posizionamento il posizionamento di un prodotto o di un servizio se è di qualità sappiamo che è vincente ed è di qualità se ha valore aggiunto e quel valore aggiunto viene spesso dalla differenziazione dalla qualità che viene dal territorio dal saper fare di quei territori questo vale sia per i prodotti ma vale naturalmente anche per le esperienze turistiche per tutta una serie di fruizioni di territori che vengono fatte un secondo fattore è l'innovazione naturalmente se un prodotto è più complesso e anche un tasso di innovazione più alto è ovvio che è più difficile replicarlo altrove e quindi può essere vincente un terzo fattore è il capitale umano la qualità della formazione dell'istruzione della conoscenza della disponibilità di stock di capitali diciamo così immateriali e per esempio anche la fiducia la fiducia diffusa che guarda caso è anch'essa un fattore culturale divengono determinanti per un territorio e per le performance di quel territorio Carlo Cipolla sottolineava l'importanza dei territori scrivendo gli italiani sono abituati fin dal Medioevo a produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo questo era quello che avveniva nel Medioevo a un certo punto c'è stata una frattura quella della rivoluzione industriale in cui sostanzialmente questa filiera orizzontale si è interrotta il mondo della produzione è andato per la sua strada il mondo dell'educazione è andato per la sua strada nel mondo del turismo è andato per la sua strada oggi forse la sfida potrebbe essere quella di riunire in una esperienza orizzontale queste cose partendo dai territori è quello che possiamo chiamare contaminazione orizzontale poi con un'altra definizione pensando ai nostri territori potremmo chiamare ruralità evoluta cioè quel sistema che tiene insieme tutti i fattori su queste cose ci piacerebbe sentire il parere della professoressa Dubini che però prima del suo intervento ci ha chiesto di poter ascoltare un paio di esperienze che si stanno compiendo su questo territorio e in particolare l'esperienza del liceo scientifico Costanzo con il dirigente scolastico professor Antonio Caligiuri e l'esperienza delle imprese che con questo mondo stanno dialogando e stanno costruendo costruendo ponti per cui chiederei al professor Caligiuri prima a Emilio Leo dopo e poi c'è probabilmente dopo anche a Francesco Sirianni un brevissimo intervento così poi dopo ascoltiamo la professoressa grazie i temi che vengono attenzionati oggi sono dei temi che l'istituto Costanzo ecco non il liceo l'istituto Costanzo ecco attenzione ormai da due anni faccio questa precisazione perché abbiamo allo suo interno tre diverse indirizzi liceo tecnico professionale sei articolazioni e una che sta per arrivare è una settima che sta anche per arrivare quindi ci troviamo di fronte a un istituto particolarmente complesso quanto fragile perché ha poco meno di 500 studenti quindi non è un gigante nonostante tutte queste specializzazioni da due anni siamo impegnati devo dire tutta la comunità scolastica ecco dal dirigente agli uffici ai docenti agli studenti a molti genitori in questa sfida che è quella di innovare il modello di scuola che vede nell'alternanza scuola-lavoro soltanto un aspetto probabilmente nella regione Calabria siamo la scuola forse più innovativa dal punto di vista del piano nazionale per lo sviluppo della scuola digitale stiamo parlando di un modello di scuola completamente diverso da quello che abbiamo conosciuto quel modello che banalmente ogni tanto in modo provocatorio chiamo ragazzi prendete il libro capitolo 3 andiamo avanti ecco no stiamo facendo tante cose nel giro probabilmente di altri due anni i nostri istituti avranno effettuato un salto qualitativo che non si può narrare con poche parole sicuramente un salto qualitativo che vedrà i ragazzi che so studiare stabilmente a casa scuola con tablet addirittura con il loro iphone avere fab lab diffusi uno l'abbiamo appena realizzato abbiamo in questi anni per esempio realizzato tre laboratori di robotica per lo sviluppo del pensiero computazionale che significa poi agire in profondità sulle abilità di base dei ragazzi ma questo è solo un aspetto come c'è poi quello della lettura su cui si è soffermato in maniera estesa e in maniera molto efficace Mario Caligiuri e sull'alternanza vorrei spendere alcune parole perché credo che sia il tema che probabilmente in questo momento può interessare maggiormente la professoressa Dubini da due anni l'alternanza scuola-lavoro è diventata obbligatoria non è più un optional per le scuole non è più un optional per gli studenti rientra normalmente nel suo curriculum di scuola obbligatorio perché? perché in effetti c'è un problema serio in Italia è il problema del capitale umano di quegli stock di capitale umano a cui faceva riferimento Florindo Rubettino che sono carenti sono carenti mica solo a soveria e decollatura sono carenti un po' in tutta Italia quando si dice che il boom italiano è un miracolo economico si vuole sottolineare che probabilmente al di là della creatività e dell'originalità del popolo italiano questo boom non stava nell'ordine delle cose in qualche maniera è stato un po' l'estero il genio degli italiani che in qualche maniera ha favorito il boom e io penso che quello che dovremmo tentare di fare in Italia su questi territori è quello di far incontrare gli studenti con il loro futuro che deve essere fatto di alcune competenze di base queste competenze di base guardate non significa conoscere Manzoni che va conosciuto non significa saper far di conto che bisogna saper far di conto significa far incontrare ragazzi con creatività originalità spirito di intrapresa capacità di lavorare in gruppo e via dicendo una scuola che si ricurva si curva su se stessa cioè sulla lettura del manuale di testo non è più scuola non riesce a raccogliere le sfide del glocalismo perché appare ovvio che noi dobbiamo essere in grado di produrre beni materiali e immateriali che siano che viaggiano vanno oltre i nostri territori si producono sul territorio ma devono essere venduti anche fuori altrimenti non c'è storia per territori in qualche maniera geograficamente un po' più marginali un po' più sfortunati come questi del Reventino e del Medio Savuto poco fa ho già raccontato qualcosina alla dottoressa Dubini per quanto riguarda alcune esperienze di alternanza esperienze che non sono semplici da fare non sono semplici da fare perché che il territorio non è in grado di sopportare richieste di alternanza per 250 ragazzi l'anno non ce la fa perché le imprese sono insufficienti questo è ovvio questo denota un fatto semplice che verosimilmente lo sviluppo economico produttivo di questo territorio non riesce in qualche maniera a dare risposta la formazione del settore dell'alternanza ma questo spiega anche perché intere generazioni sono scomparse da questi territori si sono formate qui e sono andate ad arricchire con le loro competenze altri territori sicuramente le esperienze che più interessano ma non sono sicuramente migliori delle altre quelle che riguardano il patrimonio culturale in qualche maniera quella parola che poi è una parola valigia in cui uno può infilare qualunque cosa e può utilizzarla anche per futuri improponibili l'esperienza che so che ha fatto un gruppetto qualcuno l'ho visto anche qui qualcuno di questi ragazzi in questa biblioteca ma un lavoro un po' particolare che non era semplice catalogazione o ricatalogazione ma in qualche maniera lettura veloce del significato dell'opera per una diversa ricollocazione che hanno fatto i ragazzi quindi sono stati costretti a pensare a ragionare a confrontarsi con quello civile umano che era presente qui un altro gruppo ha avviato un percorso che porteremo avanti nel corso degli anni di creazione dell'archivio storico nel comune di decollatura e col tempo sicuramente questa attività verrà svolta o proposta un po' a tutti i comuni del circondario digitalizzare documenti di 5-600 anni è una cosa estremamente importante straordinaria preserva quel matrimonio quel patrimonio ma soprattutto consente di diffondere anche tramite internet la conoscenza di questo patrimonio quindi da ogni parte d'Italia d'Europa del mondo garantire l'accesso a queste fonti inestimabili altra esperienza io dico importante che abbiamo tentato di fare è che siamo soltanto a metà del guato e quello intorno a un bene comune forse il solo bene comune di tipo archeologico che abbiamo sul territorio che è Corazzo abbiamo così sviluppato tre percorsi quindi tre diversi gruppi di lavoro in cui hanno lavorato insieme i ragazzi del liceo e i ragazzi del tecnico informatico quindi ragazzi più abituati diciamo alla cultura diciamo aulica e ragazzi che invece hanno messo a disposizione le loro ormai elevate competenze nel campo della programmazione informatica un gruppo per esempio ha fatto i rilievi di Corazzo con un ecoscanner e attraverso l'utilizzo dell'autocad è arrivato a prototipare va bene a ricostruire in scala completando questo questa opera archeologica e i ragazzi del liti lo hanno stampato in 3D e ne abbiamo prodotto una cinquantina di versioni e settembre verrà ripresso perché cominceremo la stampa in argilla e ceramica in maniera da poterlo trasformare in una specie di viatico per questo monumento archeologico di cui il territorio dispone un altro percorso invece ha interessato sempre Corazzo ma la realizzazione di un libro cartonato che ha tentato di maniera ovviamente divulgativa di ricostruire un po' tutta la storia qui ringrazio l'amico Cardamone che è stato dietro ai ragazzi portandoli anche in giro per i vari comuni del circondario alla ricerca dei resti di questa antichissima abbazia che dovrà essere stampato a settembre non appena risolviamo dei problemi tecnici con la tipografia con la casa di tricerubettino un terzo filone è quello che riguarda invece la creazione di un'app per i povedenti proprio sul Corazzo quindi un'app che è guidata dal GPS che relaziona dove uno si trova si attiva ed è in grado di narrare con la voce la descrizione del bene quindi anche un lavoro per il sociale abbiamo fatto tante altre esperienze non le narro tutte perché giustamente bisogna dare la parola a dottoressa Rubino questo cosa dimostra? dimostra che in qualche maniera gli studenti imparano imparano tanto imparano ad essere originali spesso li abbiamo mandati per cosi allo sbaraglio che poi è una filosofia di vita senza né armi bagagli dove dovevano lavorare chiedendo loro di inventarsi e di trovarsi anche gli strumenti beh nel giro di qualche giorno erano perfettamente equipaggiati quasi sempre non sempre per affrontare queste sfide dobbiamo avere maggiore fiducia in questi ragazzi non pensare che perché li teniamo in una condizione di adolescenza sono davvero dei minori va bene intellettuali non lo sono affatto e queste esperienze che stanno facendo ce lo stanno veramente dimostrando grazie Presidente Caligiuri la parola all'architetto Emilio Leo prego è un grande piacere ritornare a discutere e a ragionare su temi che sono di cruciale importanza per il nostro futuro noi siamo un territorio apparentemente marginale ma il centro si può trovare sempre in qualunque punto dalla prospettiva l'impresa in questo territorio ha radici storiche è uno dei grandi deterrenti che ci differenziano da tanti aspetti di calabresità negativa è un deterrente contro il malaffare è un deterrente contro soluzioni facili ed è la grande risorsa probabilmente che differenzia un territorio naturalisticamente bello come tanti altri nella sfida della costruzione del futuro io credo che oggi questo territorio grazie a questa capacità non solo generazionale ma interdisciplinare di tornare a diventare comunità nel senso della circolazione del sapere può costruire un modello interessante per troppo tempo l'impresa tra l'altro questa parola storicamente negli ultimi anni è sempre stata associata a delle derive negative mentre probabilmente se noi recuperassimo anche lo spirito materiale che c'è dietro all'impresa e quindi la grande tradizione del manifatturiero italiano sia esso industriale sia esso artigianale recupereremmo grande dignità a questa dimensione che poi è la dimensione economica e quando c'è una dimensione di innovazione economica secondo me è il punto di partenza dell'innovazione sociale e non viceversa e questo territorio credo che possa in qualche modo insegnare o quantomeno tracciare la strada su quali possano essere dei modelli se vogliamo inediti per lo sviluppo perché il sud e soprattutto le zone marginali sono sempre stati dei luoghi dove un po' come il secondo figlio gli si passano le cose che sono state utilizzate già quindi lo sviluppo e il modello dello sviluppo soprattutto in questo momento storico non può avere delle ricette precostituite o delle cose che funzionano a priori e forse dobbiamo ritrovare quello spirito pre-rivoluzione industriale in cui dentro alle mura la conoscenza era una conoscenza molto fluida molto di circolazione che cosa c'entra quindi la cultura con la parte di produzione materiale delle cose di questo aspetto che il Reventino nella sua accezione è probabilmente soveria solo per un fatto geografico è un po' come dire il punto di equilibrio c'entra perché paradossalmente l'immateriale è quel software fantastico straordinario che dentro ad un hardware anche spesso non troppo avanzato in termini tecnologici può fare la differenza oggi sappiamo ormai che la differenza non è quantitativa la partita della competitività su scala quantitativa è persa da decenni a meno di non voler regredire su tante conquiste sociali che abbiamo in 200 anni della rivoluzione industriale conquistato anche con lotte complesse quindi a meno di non voler evocare questo scenario si vince probabilmente riandando a scoprire tutti il giacimento delle differenze identitarie che stanno nei territori questo però bisogna farlo secondo me senza nessuna retorica del passato senza nessuna retorica di tornare indietro ma probabilmente come descrive una grande figura della matematica che si chiama i picicloide è tornare indietro per fare un salto in avanti allora il manifatturiero che è una cosa molto concreta cioè nessuno di noi può fare a meno dei vestiti delle sedie delle automobili o di anche cose materialmente più effimere perché non la società un po' umana è rimasta inalterata negli anni i bisogni probabilmente dell'uomo neolitico sono rintracciabili perfettamente in tutti noi quindi in che modo ci differenziamo ci differenziamo cercando di costruire molto più valore nelle cose che facciamo e come come le facciamo queste cose dobbiamo farle confrontandole probabilmente con la contemporaneità che gli altri territori vivono perché spesso l'errore che io e chi con me in qualche modo in questi anni si sta interagendo su queste cose tende a fare è fermarsi a un elenco di parole chiave sullo sviluppo ma la differenza vera sulle cose è la qualità con cui si fanno la forma e la sostanza coincidono in questa ricerca della contemporaneità quindi credo che il Reventino in quest'idea che diceva Florindo di proporsi come grande laboratorio di ruralità evoluta e in questo non significa né decrescere né tornare indietro ma probabilmente significa fare un balzo in avanti che è quel gap chiamiamolo anche di arretratezza che ci separa da tutto quello che in qualche modo vediamo come società evoluta e allora bisogna in questo momento storico non avere paura e non fare non ricalcare esperienze che temporalmente e geograficamente ci sono distanti e quindi prendersi anche il rischio che attraverso un doppio salto mortale si può fare il grande balzo in avanti ma dentro a questo c'è il rischio che tutti noi conosciamo grazie grazie l'architetto è stato molto bravo non so se qualche altro intervento ascoltiamo la parola alla professoressa Dubini vi prego di salutarla ancora con un applauso applaudirei dopo magari vediamo vediamo se me lo merito allora intanto grazie mille per l'accoglienza e poi grazie mille per tutti i diversi spunti io spero di averli segnati tutti e spero di riuscire a commentarli in modo coerente e che dia anche la mia interpretazione il mio la mia lettura rispetto alle cose che avete detto e sulle quali mi ritrovo spirito dei luoghi come base sulla quale creare un modello di sviluppo costruito sulla cultura costruito sulla cultura come parola che non è soltanto una parola valigia non è soltanto una parola talmente usata e abusata ad avere completamente perso significato oppure ad averne talmente tanti che non si capisce di che cosa stiamo parlando ma come qualche cosa di molto concreto cioè qualche cosa che permetta a noi che siamo in un territorio di continuare a starci e starci bene che permetta ai nostri figli di avere un lavoro ed un lavoro che scelgono di fare e non che sono costretti a fare perché non ci sono altre alternative e un modo di interpretare quello che facciamo e quello che siamo in una prospettiva di continuità quindi usare delle risorse che abbiamo che magari non abbiamo imparato a usare bene abbastanza perché semplicemente le davamo per scontato ma che adesso che magari non abbiamo più tanta varietà diventano improvvisamente preziose e quindi imparare a usare con parsimonia e sensatezza le risorse che abbiamo e inventandocele un po' perché comunque è vero non è che torniamo indietro non è che possiamo immaginare che non siamo cittadini del ventunesimo secolo e quindi in uno sforzo trasformativo e se ci pensiamo una delle cose per le quali è affascinante parlare di cultura e parlare di arti è perché riconosciamo che il valore dell'arte è la capacità di trasformare di essere sempre quel pezzettino avanti e di farci vedere delle cose che magari altrimenti non riusciremo a vedere allora come si fa come si fa come si fa a creare un modello di crescita attraverso la cultura che cos'è a me pare che che sia un modello innanzitutto che non ha paura di prendersi il tempo che serve perché un modello di sviluppo basato sulla cultura è un modello che tiene conto delle risorse che ci sono e dei tempi necessari per maturare le competenze che servono perché altrimenti non è sostenibile è un modello di crescita che presuppone che ci sia competenze diffuse che ci siano competenze specializzate ma diffuse nel senso che ci serve una serie di competenze quindi da soli non ce la possiamo fare ciascuno per quanto sia il lanificio Leo sia bravissimo perché mi ha fatto cadere la mandibola quando l'ho visitato che non conoscevo da solo non ce la fa quindi c'è bisogno che di fianco ci sia qualcuno che è capace a costruire intorno qualche cosa sulla quale si appoggi una delle cose e il territorio ci permette di fare questo perché ci permette di avere un capitale sociale dato da generazioni di conoscenza per esempio che non è mica una cosa da poco costa investire nella cultura in un modello di sviluppo basato sulla cultura certo che costa tutto costa niente è gratis ma il vantaggio di investire su un modello di sviluppo basato sulla cultura è che si deve investire con costanza per tanti anni ma porta con sé un'inerzia meravigliosa cioè c'è un'inerzia nello sviluppo costruito attorno alla cultura quindi è uno sviluppo lento ma è uno sviluppo che ha poche scosse se siamo i soli a portare avanti uno sviluppo ah chiedo scusa un'altra cosa importante è uno sviluppo è un modello di sviluppo prima diceva Frolindo c'è un giacimento di risorse che riconosce che ci sono delle risorse che abbiamo qua e che sono specifiche di qua che però devono in qualche modo essere mobilitate in modo da poter generare ricchezza perché da sola la risorsa non crea ricchezza è quello che ci fa quale se una comunità ha un progetto credibile trova orecchi attenti trova un ambiente che si sta ponendo il problema di misurare i risultati in termini di sostenibilità e che cosa vuol dire sostenibilità vuol dire far quadrare i conti vuol dire preoccuparsi delle persone preoccuparsi della crescita delle persone vuol dire creare i contesti favorevoli all'iniziativa individuale e collettiva quindi sapere distinguere bene e tenere insieme un'idea di privato e un'idea di pubblico e una sostenibilità di ambiente un rispetto del suolo un rispetto del territorio un rispetto delle e queste mi sembra che siano tutte aree sulle quali c'è da lavorare ma che si possono misurare rispetto alle quali è possibile misurare un progresso e rispetto alle quali di sicuro c'è tanto lavoro da fare ma non è che siate messi male rispetto ad altri territori o rispetto ad altre situazioni quindi 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 dicevo volontà unicità e ambizione nella qualità ricercata attenzione al sistema di vincoli al sistema e al passo da tenere aggiungerei una delle cose che non che non ho sentito ma che mi sento di buttare sul tavolo è un'idea di trasparenza di non avere paura di dirsi che cosa sta funzionando e che cosa non sta funzionando perché questo è una delle medaglie della responsabilità e quindi di dire ognuno non si riesce a costruire un modello territoriale basato sulla cultura se non ci si mette assieme e quindi nel mettersi assieme bisogna riconoscere che cosa sta contribuendo ciascuno e che cosa sta ricevendo in una logica di responsabilità un pochino condivisa non sapevo e scopro con grande interesse che Soveria è il comune più informatizzato d'Italia ecco anche su questo questa è una risorsa preziosissima perché attorno a questo si può proporsi di far conoscere di creare attenzione e valorizzazione anche di pezzi di patrimonio che spesso una volta che sono digitalizzati non vengono poi usati da nessuno adesso è di gran moda digitalizzare archivi ed è condizione necessaria da cui si deve partire per fare in modo che questa conoscenza sia agita questo patrimonio sia agito perché diventi strumento di innovazione di sviluppo di competenze e anche su questo ci sono praterie di lavoro da fare e non è assolutamente ci sono letteralmente due o tre biblioteche al mondo che stanno facendo degli esperimenti davvero interessanti e davvero sensati da prendere a riferimento ma per il resto è tutto da inventare quindi ci sono aree di competenze sulle quali ingaggiarsi e che possono genuinamente essere trasferite e diventare patrimonio non solo comune ma anche elemento di differenziazione forte ed elemento di ricchezza individuale e collettiva grazie ah dovevo dire una cosa sulla realità di fu scusate posso dire ancora una cosa l'ultimo appunto questo è il difetto di prendere di costruire la relazione sulla base di quello che hanno detto gli altri allora ruralità è voluta cosa vuol dire che cosa vuol dire questo aspetto secondo me vuole dire una identificazione degli elementi di differenziazione legati a un territorio che non è Los Angeles e quindi significa identificare una dimensione di mercati di possibilità di sfruttamento del territorio di settori da coinvolgere precisa che non torna a fare il museo dell'ombrello o il museo della civiltà contadina come ne abbiamo 57 milioni ma che lavora sugli aspetti tradizionali di competenze legati a prodotti e a processi che sono tipici di questo posto per farli conoscere e farli apprezzare ad un pubblico pubblico che quanto più siamo stati capaci di definire e di trovare sarà un pubblico che decide di di scegliere questo prodotto piuttosto che questo prodotto questo sistema questo territorio a seconda di che cosa ci mettiamo dentro e che si lega e che rispetto diciamo riconosce la specificità e la sceglie rispetto ad altri è un lavoro paziente perché perché di territori che hanno di territori che non sono Los Angeles e che hanno degli elementi di differenziazione ce ne abbiamo tanti ma è un lavoro che non può non funzionare se viene fatto con la determinazione e un approccio anche quantitativo di quanti ne abbiamo bisogno quante persone devono ascoltarci vederci provarci annusarci prima che ce ne sia un numero adeguato che vada bene a noi e che ci comperi io sono riduce da una da una gita a macerata al festival al festival di macerata bellissimo una norma spettacolare io adesso mi sto occupando di opera e quindi ero molto interessata a vedere questa cosa qua e una delle cose che ho che ho capito e che mi hanno detto con grandissima chiarezza è che una persona è possibile che vada a Verona all'arena inciampandoci dentro e l'arena è talmente dunque incidentalmente lo sferisterio di macerata ha 3000 posti quindi non è che sia proprio piccolissimo ebbene pochissime persone inciampano a macerata e vanno a sentire l'opera pochissime quindi per riuscire a fare in modo di riempire 3000 posti per una stagione di opera di 10 giorni bisogna che ci sia un gruppo di persone che deliberatamente decide di andare a macerata è proprio un modello completamente diverso dal modello di Verona anche se alla fine se noi guardiamo i cartelloni e se noi guardiamo al tipo di attività pur su una scala completamente diversa tutto sommato si assomigliano ma c'è questa differenza fondamentale che è data dal fatto che se noi vogliamo andare a macerata cioè che se macerata vuole riempire il suo teatro è riempito da persone che conoscono e deliberatamente scelgono di andarci laddove invece chi va a Verona spesso viene cammellato mentre faceva una serie di cose già che ci siamo truc vai anche dentro lì è proprio un modo di lavorare sugli stessi titoli completamente completamente diverso ecco credo che un posizionamento basato su un modello di sviluppo di ruralità evoluta debba porsi l'obiettivo che sembra ambiziosissimo sulla carta di dire ho bisogno di mille persone che decidono di comperare qui venire qui scegliere qui consigliare qui invece di un'altra parte perché sarà molto difficile che inciampino dentro quindi bisogna che si convincano del valore che trovano qui e perché si convincano non c'è che una strada essere bravi ma io sono molto ottimista ringraziamo la professione per questa riflessione finale sull'ottimismo della volontà e quindi vediamo se ci sono interventi in modo tale da poter arricchire il dibattito di questa sera l'avvocato Sirianni buonasera Francesco Sirianni prego ora semplicemente una breve testimonianza anche perché sollecitato da da Florindo semplicemente per per chiederle un suggerimento noi abbiamo costituito da pochi anni un'associazione degli imprenditori in questo contesto l'associazione degli imprenditori del Reventino fatto da da poche aziende è costituito diciamo un luogo in cui poter interagire discutere e partecipare ciascuno delle proprie esperienze per potercele raccontare e come suggeriva anche lei spingere sulle cose che per ciascuno può ancora non sappiamo realmente in quale fase si trova ed è quello di realizzare ciascun luogo in ciascuna impresa un luogo fisico in cui raccontare la storia di ciascuna impresa quindi creare dei tra virgolette dei piccoli musei dove ciascuno per la realtà che ha vissuto per le buone prassi di produzione che ha ricevuto in eredità e vuole trasmettere in eredità riesce a custodirle questo luogo fisico che poi diventa ovviamente intrecciandosi con gli altri luoghi per ciascuna delle aziende che partecipano a questo progetto diventa una forma di rete di musei aziendali e quindi diventi un punto di attrazione che possa consentire a soggetti che vengono che sono spinti a come dire a visitare questo luogo e a capire effettivamente cosa c'è in questo luogo quindi attirati da questo che potrebbe essere questo circuito ora visto che lei si interessa lei è una studiosa che approfondisce i temi per per cercare di legare lo sviluppo e la crescita economica anche a momenti culturali se lei ritiene che questo modello possa eventualmente essere un punto da cui partire o uno dei punti da cui partire grazie sì allora dunque sui musei di impresa come sì allora i musei di impresa sono una delle diciamo delle attività che fra l'altro sono già in qualche modo in circuito c'è un circuito di musei di impresa anche a livello nazionale io ricordo di essere andata in visita una volta alla Marelli che ha fatto un lavoro molto grosso da questo punto di vista e secondo me funzionano più o meno e secondo me uno dei motivi per quando funzionano meno è legato al fatto che vengono pensati come o come qualche cosa di celebrativo o come così lo sfizio del nonno no cioè una di quelle cose un po' guardando indietro mentre invece secondo a me pare che abbiano un valore molto molto abbiano un'utilità decisiva per per trasferire la memoria anche perché in alcuni casi ci sono alcune conoscenze o alcune filiere che semplicemente non abbiamo più e quindi c'è bisogno di se vogliamo imparare e reinterpretare dobbiamo sapere conoscere il pregresso allora io la farei così io la farei la rete dei musei e la penserei come rete in prima battuta pensata per un pubblico specifico e il pubblico specifico che io penserei sono le scuole della regione e quindi io comincerei a prendere cinque dirigenti scolastici illuminati del quattro uno ce l'abbiamo già certo ma uno ce l'abbiamo già quindi farei farei no ma io allargherei no cioè diciamo giocare in casa ci piace vincere facile ma perché io non avrei paura a pensare che lo si progetta a partire dalla dalla Calabria ma con l'idea che questo deve essere il punto di riferimento per un territorio perché deve essere un pezzo di business è un pezzo del modello di business dello sviluppo basato così e quindi è già pensato come circuito e quindi più o meno ci deve essere quindi c'è un pochino più di lavoro in fase di progettazione perché dobbiamo metterci d'accordo in cinque e sei dobbiamo metterci in ascolto di che cosa il dirigente ci dice essere la problematica della scuola che cosa si aspetta la truppa cammellata e la truppa cammellata è fatta con tutto rispetto per gli studenti che sono in questa stanza però com'è fatta e questa truppa cammellata è fatta di ragazzini di 15 anni o di ragazzini di 8 perché probabilmente è una cosa un po' diversa e quanti sono e dice quanti ce ne servono per poter cominciare a dire che stiamo facendo questa cosa che giustifica l'investimento che ciascuno di noi ha messo nella cosa poi l'altra cosa che farei io affiderei ai ragazzi delle scuole il compito di immaginare come lo si propone perché se deve se deve essere la cosa io mi ricordo che quando ero bambina in quarta elementare mi hanno portato la mia prima gita scolastica alla Perugina a vedere la produzione delle uova di Pasqua sono stata male per una settimana perché alla fine ci hanno sgabbiato a mangiare baci Perugina a go go e quindi siamo stati tutti malissimi però a me l'idea di fare economia mi è venuta lì perché era talmente bello vedere la produzione che a me è rimasto sempre il fascino io appena posso visito lo stabilimento perché vedere il prodotto è una cosa di una bellezza pazzesca quindi come si fa a fare in modo che chi guarda chi viene rimanga affascinato da questa da quello che vede bisogna che ci aiuti a progettarlo in qualche modo e poi se noi vogliamo questo fase 1 quindi pensarlo come un elemento che deve essere un pezzo del sistema di offerta del territorio e quindi è destinato a un gruppo di visitatori anche se è gratis cioè va benissimo ma ha un pubblico quindi è affrontato in modo industriale perché mica vero che la cultura è aria fritta no cioè è qualche cosa che fa parte di un modello di sviluppo l'altra cosa che farei è che siccome esiste una rete di musei di impresa esiste io non avrei paura presto a segnalare a segnalare che esiste a entrare nei circuiti più grandi perché l'idea è che per quanto non ci sia bisogno di avere tante persone che vengono qua è evidente che bisogna il più possibile valorizzarsi il prima possibile e quindi forse fare anche una cosa di questo genere allora altre domande ci sono altre domande allora se non ci sono altre domande concludiamo allora siamo due parole per concludere questa prima serata dell'università d'estate questa prima giornata di estere a soveria 2016 di che cosa abbiamo parlato questa sera abbiamo parlato di un nuovo modello di sviluppo che possibilmente parta dal sotto Florindo Rubettino ha parlato di ruralità evoluta che non è decrescita non è nostalgia non è luddismo ma è una visione della contemporaneità una diversa visione della contemporaneità e in definitiva un ritorno al futuro per richiamare il tema il filo rosso di quest'anno e appunto per cercare di costruire questo nuovo modello di sviluppo raccogliendo quelle che sono state le suggestioni di Antonio Caligiuri di Emilio Leo di Franco Sirianni e ci accompagneranno per prima Paola Dubini poi Raffaello De Ruggeri Vittorio Sgarbi Derek De Kercove Massimo Brai e tanti altri bella caro Emilio questa immagine delle picicloide tornare indietro per fare un salto in avanti poi citare questa immagine poi in questo luogo in questa casa dove c'è qualche piccola citazione borbonica che non è vista come senso come nostalgia o recupero di un passato improponibile ma come recupero di identità perché è sull'identità che si costruisce il futuro quindi non si può lo ricordava Florindo Rubettino in un articolo sul mattino di qualche tempo fa il sud non può inseguire un nord in ritardo ma deve cercare di costruire nel proprio interno valorizzando le risorse che ci sono un modello di sviluppo alternativo perché le risorse le abbiamo non è per nulla vero che il sud sia povero o che la Calabria sia povera e che noi utilizziamo male le risorse che abbiamo non riusciamo a trasformare in crescita economica i tanti talenti che abbiamo e questo è il tema dal mio punto di vista Emilio Leo ci ha ricordato che le parole chiave sono tutte sbagliate e perché tra l'altro noi nel dibattito pubblico ci occupiamo di fatti che sono assolutamente secondari noi non andiamo ad affrontare quello che Grand Green chiamerebbe il nocciolo della questione ma andiamo per la tangente in più direzioni da questo punto di vista allora quello che conta invece è la qualità delle cose che si fanno e in una realtà in cui le opinioni si equivalgono in cui c'è la scomparsa dei fatti viene sommersa da un nugolo di disinformazione occorre lo spirito critico e qua è fondamentale quello che è il ruolo che deve avere la scuola che deve educare a pensare deve sviluppare lo spirito critico e deve dare le abilità di base tutto il resto viene dopo bisogna cominciare dalle elementari se non prima perché le abilità cognitive si formano nei primi tre anni di vita quindi diventa fondamentale un investimento anche nell'età prescolare quindi parlavamo di spirito dei luoghi e diceva Paola Dubini può essere un modello di sviluppo basato sulla cultura che richiede consapevolezza impegno volontà luoghi i nostri dove continuare a restare però come scelta consapevole e in un territorio starci bene avere un lavoro che ci piace e che non sia un ripiego dove i nostri figli possono crescere per cui quando domandano a qualcuno di noi come mai dopo tanti anni o facendo anche cose diverse continuiamo a impegnarci all'interno delle nostre piccole comunità perché come opportunamente qualcuno di noi ha detto questo è il luogo dove devono vivere dove devono crescere le mie figlie e allora io credo che sia importante questo aspetto e usare le risorse che noi abbiamo in uno sforzo trasformativo ha detto Paolo Dobbini ricordando un concetto essenziale perché a essere avanti non è mai la politica a essere avanti non sono mai le strutture sociali radicate che esprimono in ogni modo un potere ma invece il criterio che ci fa comprendere quello che accadrà è quello dell'arte perché opportunamente è stato scritto l'arte descrive ciò che il mondo diventerà e per capire quelle che sono le tendenze degli anni che verranno bisognerebbe andare alla biennale bisogna andare nelle grandi mostre internazionali dell'arte per capire dove sta andando il mondo quindi quello che si può prefigurare e cercare di interrogarsi su come si fa a creare un modello di crescita con la cultura questo è il punto su cui Paolo Adubbini ha richiamato la nostra attenzione quindi dovrebbe essere un modello che tiene conto delle risorse e poi di un fattore essenziale dei tempi ora in una società come la nostra che è segnata dalla informazione cioè dal mio punto di vista dalla disinformazione e comunque da una montagna di informazioni che ci coinvolgono noi assistiamo ad uno scarto probabilmente incolmabile tra i tempi lunghi dell'educazione i tempi necessariamente lunghi dell'educazione con i tempi immediati della comunicazione caro Antonio come superare questo viato e questo credo che sia un tema fondamentale da porci sotto il profilo educativo cominciando dall'età prescolare Paolo Adubbini ci ha ricordato che con la cultura si mangia lo sappiamo bene anche se qua meno di un mese fa il 2 di luglio è stato ospite in questa nostra nella nostra biblioteca dedicata intitolata Michele Caligiuri è stato presente Giulio Tremonti al quale si deve la celebre la celeberrima frase che con la cultura non si mangia allora io mi sono chiesto essendo amico del diciamo del professore Tremonti dato che questa frase io l'ho solo trovata riportata e così come le affermazioni che dicevano che Andreotti aveva incontrato Rina e che erano tutte erano affermazioni dipentiti confermate da altri pentiti magari defunti allora il tema di mi sono posto il tema di dove l'avesse detta questa frase il professore Tremonti e ho domandato dove avesse detto scritto questa affermazione e lui mi ha affermato che non l'ha detta è scritta da nessuna parte però gli viene abbondantemente gli viene attribuita costantemente allora il e quindi parlavamo non a caso di società della disinformazione allora che la cultura produca ricchezza è come dire che oggi è lunedì cioè è una cosa ovvia perché qualunque tipo di attività produce economia allora Paolo Dubini alla fine ci ha richiamato il concetto della responsabilità il concetto della responsabilità che significa solidarietà significa verifica dei risultati significa condivisione delle informazioni significa competenza e quindi si richiama il valore e l'importanza dell'istruzione infine sulla proposta di Franco Seriani dei musei di impresa io ritengo che questa possa essere una opportunità per quanto riguarda il nostro territorio un territorio che è stato chiamato a sperimentare un progetto di carattere nazionale voluto da Fabrizio Barca che ha individuato nella vivacità delle imprese e nella qualità dell'istruzione scolastica superiore i punti di forza ora e credo che se noi abbiamo la visione di sostenere uno sforzo del genere essendo come diceva Emilio Leo creativi nel senso che bisogna distaccarsi da quelle che sono i sentieri già percorsi per cercare di individuare dei nuovi credo che noi abbiamo delle possibilità importanti interessanti originali da poter sviluppare credo che noi la volontà c'è le risorse ci sono dobbiamo mettere insieme questi valori queste energie queste risorse non sprecarle perché il nostro territorio con poche persone è un territorio isolato è un territorio che ha tanti problemi però noi dobbiamo avere la capacità di trasformare i limiti in opportunità e credo che se noi riusciamo a dimostrare questa capacità e le persone ci sono noi riusciremo a vincere la scommessa del futuro grazie per essere stata qua grazie a tutti 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 Grazie.